Anche se la squadra era già andata in campo ieri, ufficialmente il ritiro del Palermo qui a Livigno, è iniziato questa mattina, pioggia battente, nubi ovunque, temperatura sotto i 10 gradi, alle 9.30 la squadra era in campo, prima un po' di palestra, poi subito in campo, soprattutto per una serie di esercizi, corsa, scambio del pallone in spazi brevi è soltanto il primo giorno, siamo al centro sportivo Acquagranda, qui si allenano le squadre olimpiche, qui ci sono delle strutture davvero d'avanguardia, sono 27 i giocatori con Dionisi perché è arrivato questa mattina a Diachite, adesso mancano soltanto Nedelciaro e Lundi, i volti nuovi sono il portiere Gomis, il difensore Peda, il direttore sportivo De Sanctis, lavorano ad almeno 4-5 operazioni in entrata di qualità che possono davvero consentire di dire che il potenziale del Palermo è stato aumentato rispetto alla passata stagione, saranno probabilmente di più invece le operazioni in uscita. Il programma quotidiano prevede sostanzialmente due sedute, una alle 9.30, una intorno alle 16, la conferenza stampa dopo la seduta mattutina, sono tre le partite amichevoli già organizzate, due si giocheranno qui a Livigno, una in provincia di Brescia, l'ultima, l'ultimo giorno del ritiro, sarà il test più importante perché vedrà il Rosanero affrontare una squadra di Serie A, il Monza. Vi ricordo che TRM seguirà quotidianamente l'attività del Rosanero qui in Valtellina con il programma Siamo Aquile in onda alle 20.10, alle 21 e alle 23. Proporremo il risultato quotidiano e poi anche interviste ai tifosi, oggi ce ne sono pochissimi perché il tempo è davvero brutto. Speriamo che ci sia un miglioramento nelle prossime giornate perché è chiaro che lavorare in queste condizioni non è proprio il massimo lavoro intenso per il direttore sportivo De Sanctis la prossima settimana. Potrebbe essere quella in cui il Palermo potrebbe annunciare qualche operazione, si continua a lavorare su Pierozzi, ma sono davvero tanti i nomi sul taccuino e tanti quelli proposti da quotidiani e siti e ci mettiamo anche le televisioni ovviamente che poi è inutile ricordarli tutti perché servirebbe un intero telegiornale. Adesso la linea torna a Palermo a Cristina Arcuri, l'appuntamento è con Siamo Aquile alle 20.10, alle 21 e alle 23.